Mauro e Nadia li conosco da diversi anni, sono diventata sua cliente nell'ultimo anno, proprio classiche chiacchiere da parrucchiera, mi sono recata dal parrucchiere e cercavo una cosa particolare e un cliente della mia stessa parrucchiera mi dice perché non vai da Mauro che è un artista e sicuramente lì troverai quello che può soddisfarti e così è stato. E da lì, da un anno a questa parte, ho preso poi altre cose perché effettivamente merita. E l'aspetto che mi è piaciuto di più da Mauro e Nadia? Beh, è possibile innanzitutto non trovare qualcosa perché Mauro è un artigiano in gamba, con molta fantasia, poi devo dire che hanno un grandissimo assortimento, quindi è praticamente impossibile non trovare qualcosa quando si va da loro. Se consiglierei ad un'amica, sì, amiche e anche alle mie sorelle consiglierei sì di andare per la stessa ragione, perché sono sicura che sicuramente lì troverebbero qualcosa che gli può interessare, insomma, che può piacere. Grazie.